E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi sono qui perché pare, e dico pare, che ci sia la cioccolata impossibile da squagliare E ragazzi fatemi sapere con tanti like se volete altri esperimenti di questo genere, se questi video vi possono piacere 30.000 mi piace, prossimo video esperimento, visto che ci siamo scopriamo cosa c'è all'interno Qualcosa mi ha inviato Kellogg's E apriamo L'odore è buono ed è cioccolatoso, c'è una lettera che ora leggeremo Una tazza piccola, no? Se sapete che devo mettere muscoli, quindi mi hanno dato una tazza adatta E eccola qua Il mattone La cioccolata impossibile da squagliare Ed oggi cercheremo in tutti i modi di squagliare questa cioccolata nei modi più assurdi Ma vando alle ciance leggiamo la lettera che ci hanno dato Il vostro caro Dexter, sì sono io Dentro questa scatola troverai tutto il necessario per sciogliere una tavoletta di cioccolato Ma fai attenzione, se ne sprechi anche solo un po' verrò a cercarti E fidati, ti troverò Sciogli a più non posso, ciocco predatore Ma banda alle ciance, è il momento di sciogliere questa cioccolata prima che dei cereali mi vengano a prendere E ho molta paura Ma questo è un mattone Pronti per sciogliere questa cioccolata perché io ho fame Voglio mangiare, voglio sta tazza dei cereali Primo strumento Dato che il mio Kung Fu non è abbastanza potente Come vedete da questa clip Un amico è venuto in mio aiuto Mister Phone Ok non è il momento per farsi bello Velocità intensa Niente Dai Perché non ti sciogli Tentativo fallito Procediamo al prossimo Nulla brucia di più di una marmitta di un motorino A parte la peperonata di mia nonna piena di olio e schifezze varie ma quelli sono altri discorsi Questa marmitta mi ha causato 800.000 bruciature Bene, la cioccolata avrà pane per i suoi denti Marmitta scaldata, datemi la cioccolata La marmitta è incandescente Proviamo Niente Non ci credo Che rischia che si brucia la ciotola ma non la cioccolata Niente ragazzi Esperimento fallito purtroppo Ma forse ho un asso nella manica Siamo pronti Fa molto caldo Per la scienza questo e altro Con il calore del mio corpo Proverò a far sciogliere la cioccolata indossando questi 5 maioni Morirò di caldo è vero Ma per sciogliere quella cioccolata Faccio di tutto Pronti Oh la palestra ha fatto effetto Se non te sciogli così non so come altro potresti scioglierti Quindi vedete scioglierti No raga Chi gliela fa Scioglite Sono morito Ma perché mi fate fare queste cose Niente Acqua Mannaggia a te Prossimo tentativo Perché non ti sciogli Non so più che devo fare Ma questo no Questo no Questo non si può fare Serio? Qua qua Adesso basta Durante il mio ultimo viaggio ho imparato una tecnica segreta E tu adesso ti sciogli Sì finalmente ce l'ho fatta Violetta ha il cioccolato per farmi le torte per due mesi E finalmente si mangia Sfida completata E io sono contento perché vi volete a me per fare i dolci Ma ho fame Sono rimasto con la fame E quindi Oh finalmente Giunta al momento della merenda E quindi mi gusto questi cereali Choco Crave Ripieni di cioccolato Io me li mangio Poi mentre me li mangio Vi dico Vi ricordo di lasciare tanti bei like 30.000 mi piace Prossimo esperimento Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Vi mando un abbracione Un salutone E chili Ciao gente